Benvenuti in Kronoswiss. Kronoswiss è un marchio di orologi svizzero fondato nel 1983 dal noto orologiaio e imprenditore tedesco Gerd Rudiger Lang. Situata a Lucerna, in Svizzera, la sede del marchio è sinonimo di qualità e precisione nella produzione di orologi meccanici di alta qualità con un design unico e distintivo. Il marchio Kronoswiss utilizza solo movimenti meccanici svizzeri di alta precisione, come il movimento automatico ETA o il movimento a carica manuale Valjoux, per garantire la precisione e la durata dei suoi orologi. Inoltre, i materiali utilizzati nella produzione degli orologi sono di altissima qualità, tra cui oro, platino, titanio e acciaio inossidabile. La gamma di stili di orologi offerti da Kronoswiss è vasta e variegata, con orologi da polso per uomo e donna, orologi da pilota, orologi subacquei e orologi classici da dress watch. Ogni modello di orologio Kronoswiss presenta un design unico, con particolare attenzione ai dettagli, come ad esempio la famosa ghiera in stile vintage, che è diventata un'icona del marchio. Inoltre, il marchio ha creato orologi in edizione limitata e collaborazioni con altri marchi di lusso, tra cui Jaguar e Beauvais. In sintesi, Kronoswiss è un marchio di orologi svizzero di alta gamma che offre orologi meccanici di alta qualità con un design unico e distintivo. La scelta di un orologio Kronoswiss rappresenta un investimento nel tempo, un simbolo di stile e un'opzione perfetta per chi cerca un orologio di lusso svizzero che si distingua per la sua eleganza e la sua bellezza senza tempo.